...di pedofili dediti a riti satanici per convincere gli assistenti sociali a falsificare le relazioni e togliere i bambini alle famiglie. È quanto emerge dagli interrogatori che finiranno nel fascicolo del processo. Sentiamo Luca Ponzi. Esiste una rete di pedofili attivi in provincia di Reggio Emilia che compiono riti satanici, omicidi e cannibalismo rituale. Per questo i minori a rischio vanno allontanati a tutti i costi anche falsificando le relazioni sulle famiglie. Federica Anghinolfi, la responsabile dei servizi sociali di Bibiano e Francesco Monopoli si erano inventati questa storia per convincere i loro collaboratori di essere dalla parte giusta. È scritto nei verbali degli ultimi interrogatori degli assistenti sociali. Molti gli elementi in comune con la vicenda dei presunti pedofili della bassa modenese. La psicoterapeuta Nadia Bolognini, moglie di Claudio Foti, aveva illustrato gli elementi simbolici della setta. Il bosco, le maschere, i camionisti e il sangue. Un'organizzazione potentissima formata secondo Monopoli da magistrati, uomini delle forze dell'ordine e professionisti per cui era inutile denunciare anche perché c'era il rischio di ritorsioni. A Bibiano ci credevano davvero. Una delle indagate ha ammesso ancora oggi. Faccio fatica a credere che quello che ci hanno detto sia tutto falso. Grazie.